Parcheggi Rosa si tratta di spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con figli di età non superiore ai due anni. L'amministrazione comunale ne ha disposti 26. Sentiamo in proposito il comandante della Polizia Municipale. Le donne in attesa hanno più posti proprio per parcheggiare? Da parte dell'amministrazione comunale nei vari punti della città, da Campo Marte alla zona Giotto, alla zona via Signorelli, a tutte le zone che riguardano il centro della città, sono stati istituiti 26 posti rosa da adibire a persone che sono in stato di gravidanza o genitori che hanno bambini di un'età minore di due anni. Quindi si è ricercato anche questa riserva di posti per dare la possibilità a tutte queste situazioni particolari di avere un parcheggio.